Vento e sole rappresentano fonti di energia rinnovabile fondamentali per ridurre le emissioni di CO2, ma la variabilità della produzione dovuta principalmente alle condizioni meteorologiche richiede soluzioni di stoccaggio che l'attuale tecnologia non soddisfa pienamente. Il Centro per l'Energia e la Chimica Ambientale di Iena in Germania ha sviluppato una batteria composta da polimeri organici, molecole con proprietà di trasporto della carica elettrica che può risolvere il problema. In pratica abbiamo bisogno di conservare l'energia in modo che anche se non c'è vento possiamo usare l'elettricità prodotta e questo tipo di batteria, la Redox Flow Battery, è perfetta per immagazzinare grandi quantità di energia. Le batterie a base di polimeri plastici possono immagazzinare quasi la stessa quantità di energia per chilogrammo di quelle a litio, ma poiché la plastica è più leggera abbiamo bisogno di un volume maggiore per immagazzinarla. Un altro vantaggio è il minore impatto ambientale, questo tipo di batteria infatti non fa uso di metalli rari o tossici come litio o piombo. Per la produzione di un dispositivo di stoccaggio energetico tradizionale generalmente vengono disciolti sali di vanadio nell'acido, qui invece i polimeri vengono dissolti in una soluzione salina neutra. Nella Redox Flow Battery abbiamo disciolto un materiale attivo come piccole molecole o polimeri. Possiamo paragonarlo un po' a quando si scioglie il sale nell'acqua cucinando la pasta o mettiamo dello zucchero nel tè. In questo caso quando abbiamo abbastanza vento e l'elettricità è disponibile avremo un elettrone che si sposta da un lato del nostro materiale attivo all'altro lato e in questo modo possiamo immagazzinare l'elettricità. L'investimento per il progetto è stato di circa un milione di euro di cui più di 800 mila euro provengono dalla politica di coesione dell'UE. Il centro di ricerca dell'Università di Iena ha anche sviluppato una batteria sottile che può alimentare dispositivi come apparecchi connessi alla rete o piccoli sensori medici. Il circuito elettrico in questo caso è compresso tra le superfici di due fogli di materiale plastico. La particolarità di questo tipo di batteria è che è flessibile e può essere prodotta con tecniche di stampa. Inoltre qui usiamo anche materiali completamente privi di metallo. Rispetto ad altre batterie flessibili sono anche ricaricabili, il che significa che è possibile utilizzarle più volte. Questi tipi di batterie saranno presto disponibili sul mercato, essendo realizzate con materiali facilmente disponibili in Europa, potranno anche garantire ai paesi europei un approvvigionamento energetico costante ed ecosostenibile.